Ciao a tutti ragazzi, sono Beatles, sono Valdroggi, ragazzi, siamo su Aldertay, un gioco avventuroso dove c'è questo combino che deve fare tante avventure, dove incontreremo animali strani, perché dovremmo pure, è un gioco di combattimento, dovremmo mettere il tuo nome, il tuo nome, il tuo nome, wow, ok, beat shader, io mi chiamo beat, quindi vai, vai, temi, è questo il nome corretto? Sì, questo è il nome corretto, live beat, vivi, e che cazzo di bambino è, è un bambino, il cinese, il cinese, il cinese, il cinese, adesso dove andiamo, vediamo un po', sono questo bambino, che è bevuto in inizio di me, ok, fisco sul telefono, oh, c'è un flore, un flore, aspettate, flore, fiore, c'è un fiore, ehi, questo è Flawi, Flawi il fiore, mi piace di conoscerti, hm, sei nuovo, il nuovo, ah, intervigione, il tuo fiore, il cinese, l' 빨ga, euro, si è questo, il fiore, nerv e interni, Col orgasmo, tra i calzoni, scelta le finanze, Sì, il mio livello è 1, vedo, questo è il mio livello, ma se voglio dell'amore, un po' di amore, un po' di amore, grazie, grazie, non mi fido di te, ecco, che faccia, ok, ok, proviamo, vai vieni, scrivo, non giocare, vai, questo non è un gioco, vabbè, non voglio farmi capire, hai qualcosa in mente, forse, oh mamma, aspetta, ti soffrire, cosa, muori, no, non voglio morire adesso sul corpo giovane, aiuto, qualcuno mi aiuti, cosa, raga, comunque questo è il mio primo video del cuore, tornare una povere innocente, ah, io sono Toglia, ok, grazie per aver salvato, tu sei umano, Aspetta! Cosa? Questo è il nome? Allora dove vuoi portare Toria? Vabbè, utilizziamo il salvataggio, salviamo tutta la partita! L'altro determinazione! Salva! Salva! Andiamo! Seguiamo Toria! Benvenuto nella tua nuova stanza! Innocente! Quella! Quell'operazione! Che è un paso! Tipo, ci sono delle prove in questo gioco! Si è un paso! Non lo sono copiato! Che succede se faccio un'altra cosa! Ehi! Dobbiamo! No, lo dobbiamo! Progresso! Ecco, ma se puoi prendere in giro pure questo capicino! Ehi! Questo è un po' di spesa! Questa neva ci dice... Ma vabbè! C'è scritto delle peccette! Se li attivo qua! No, no, no! No, no, no! 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 E mi dice... Splendido! Io sono prudente di te! Cosa! Proviamoci! Una prossima stanza! Umano! Vabbè! Ok! Non la vai! Preparati! Quindi... Nella... 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 Questa situazione... Questa situazione... Il processo è semplice! Vabbè! 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 tu sei in grado di combattere tu hai rifiutato questa azione di essere amici già ho capito se parlare con lui è da attaccarlo ma io voglio fare un'altra cosa perchè non attaccare guarda parliamo un po' dammi no no lascia vai come si come si va come si esce questo costretto non posso tipo attaccare eccetera guarda come volevo fare il boccio stacchiamo è meglio sono pronto preso un po' di pantoccio e non ho avuto nemmeno vabbè a merita c'è la violenza vabbè a merita c'è la violenza ok Toria non ci piace proprio sulla violenza allora c'è una propria puzzle questa puzzle c'è un puzzle vedete un nemico una rana strana però io voglio riattaccare un po' non farlo quello che si quando è uccido e ho guadagnato un po' di 10 più spedente e venti con dettaglio che devo fare bene tutorial questo è il puzzle un po' di 10 dammi la mano ma che sei Gesù tu hai un eccellente vabbè sentiamo io ho difficoltà ok sentiamo tutto che ce ne frega sentiamo non è lì andare qua ci possiamo su una strada il problema è che non possiamo fare video colorato caldo perchè c'è un programma che non mi permette di usare la guarda con la scuola ma ho preso tutto cioè ti permette di fare usare la guarda al meglio se lo veramente la mette non è lì nascosto ok me la scelgo da solo vai non è lì 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 seguiamo il telefono pronto questo qui è Toniel non è lì ma dove si è finita? ma come faccio a fare? non è lì 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 da me non ci c'è lo stato il telefono non è lì non è lì non è lì non è lì ma guardi qua mia madre è lì la mia madre è lì non è lì cos'è? si che succede? vai alla caramella come ti sono scusa? ok questo bambino non parla nemmeno un altro monstro però ci sono certi questi se la voglio che sia ambientati se la voglio sia ambientati ma poi se la ho di livello di 24 per 2 e di mi attacco 24 non è lì guarda che dove si gioca non è lì non è lì forse questo no non è lì 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 ma non è lì è lì è lì non è lì non è lì ma non è lì ok che solo ti ricordo non è lì un pezzo non è lì ma non è lì scusa ma dove devo andare? non è lì posso dirà che non è porca ha dovretto su pronto qui è torri allora niente in particolare qual'è il tuo piatto preferito? un biscotto cinamone cosa sarebbe? vabbè vediamo che cos'è cinamone ok grazie tutte le scelte clic dico nuovo pronto mi piace i tutti sconti cosa sapete? se ci viene ok 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 sei ok 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 Noi non sono nulla qua, vabbè, avventiamo Sperse anche le scadette Però, non è, vedo un solito Prosto Però non voglio più tempo di lasciare in pace E si lascia Noi, no no dai ci metto la vita vedi in giro metto il vaso ok e qua come va ci a un po' ma no no ma no no e quello è molto male va non ho potenziato nemmeno la attacca ma allora qua Ho capito il passo, come si fa, poi andiamo così, poi andiamo così, ho capito perfettamente, ma se lo vedete da memoria, però se non si mangio proprio, la faccia ne viva, e finiamo così, e lo faccio, vabbè facilissimo, le X-Men sono un 1, non è possibile vabbè 20 ma tu non stiamo senti non stiamo senti ma ci facciamo che abbassare non è possibile non è possibile attacchiamo ci abbiamo battato attacchiamo questo ci abbiamo battato vabbè ci possiamo questo ho calato questo divano mamma spostati ma troppo vuoi che mi spostano troppo no così in che direzione devo andare capisco capisco che vengo il bottone ecco bravo e non spostarci se non ci sapete che faccio ma non ti guarda soluzione spostaci che stai là voglio farmi scherzi ok se abbiamo c'è un po' di formaggio salvo la mente terminazione c'è una casella dove c'è un po' è un po' di formaggio il fantasma perfetto e adesso proviamo con forza ok ho fatto come un po' qui dai no, non li divertiamo ahia le lacrime fanno male mi metto qua con le lacrime questo non c'ha le mani questo quando aspetta è il pericolato che non è affatto a volte sono attenti eh adesso questi pepicelli qua che si chiamano schivano ora non ho fatto fuori, mannaggia io ho trovato tesoro è fatto fuori e ho vinto si l'ho ucciso è fantastico adesso vado a riccardo abbiamo vinto scusate ok qua dove porta va bene ma aspetta delle regna delle regna che stanno bornecciate oggi qua rani bornecciano c'è la rana c'è la rana c'è la rana c'è la rana sarebbero le panchie qualsiasi torino c'è l'izzato c'è la rana c'è la rana c'è la rana c'è la rana quindi qua cosa dobbiamo fare? ah... ho capito adesso sa il potere delle regna e per eeeh ha bisogno che si è volucendo a cavo ah però se sbaglio leva scusa che leva devo sirare si eeeh successo scusa come devo farlo eeeh 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 aspetta un momento qua dietro c'è qualcosa poi l'ho scoperto c'era qualcosa da nascosto c'era una leva nascosto in questa polona qua ok l'altro sarà mica questo ma sbagliato c'era una leva c'era eeeh almeno il problema è che non andando così divertendo le cose come se non escono gli spunti ok eeeh 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 andiamo c'è un'altra eeeh somma eeeh 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 un mosto eeeh Altra volta. Allora il potenziale è più grande. Ok. Ok, la banana. Ah, le carote. Ma sempre bene. Dai, il prossimo 8. Scriva, scriva. È buona. Spendendo un po' aiuto. Non so molto. Non so molto. Stato il caramello qui. Non mettereci un po' la caramella. La caramella qui si scurriamo. Ok. Abbiamo ottenuto 10HPK. 10HP. Ok. La cavolo si è cresciata. La caramella qui si è crescita. E' un'altra cosa. Non c'è più di più. Non c'è più di più. Ma non c'è più di più. Che telefoni? Sono qua. Sono qua. Non lo so. e quindi abbiamo questa determinazione. Ehm... Questa è la casa. Sono presa. Ok. è la casa di Giorgio è perfetto quindi ragazzi che buona quel video